Bene, adesso chiediamo a padre Nisi Candido, Donino già l'ha presentato, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Siragusa, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Metodio, ma anche responsabile dell'Apostolato Biblico dell'Ufficio Catechistico Nazionale, quindi una persona molto impegnata. Peraltro magari poi le faremo qualche domanda rispetto ad alcuni suoi approfondimenti sulla gioia, sulla speranza, su alcune cose che lo leggono anche alla musica in quest'ultimo periodo. Matteo la parola. Grazie, grazie. Allora non so se si sente, si sente grosso modo, se non doveste sentire non vi perdereste molto per i prossimi 20 minuti, potete riposare. Io ringrazio per l'invito che ci dà la possibilità di riflettere su alcune tematiche che penso possano aiutarci davvero molto. E mi colloco, proprio per lo spazio che mi è stato affidato, in un ambito, se volete, per certi versi ristretto, ma come tante cose della vita, anche i pozzi sono uno spazio apparentemente ristretto, in realtà sono molto profondi, in alcuni casi non si vede dove sia la fine. E un po' mi colloco nello spazio ristretto e molto profondo della sapienza biblica, in modo particolare di quella dell'Antico Testamento. In realtà la corrente biblica poi tracima dall'Antico Testamento e arriva nel Nuovo Testamento. Vi faccio soltanto un esempio che molti di voi almeno avranno nelle orecchie, il prologo di Giovanni, che esordisce con in principio era il Logos, questo Logos, non è tanto quello greco della ragione, come noi tradurremmo immediatamente, ma è piuttosto la sapienza dell'Antico Testamento. Un po' nel Nuovo Testamento respirano, si muovono sull'onda lunga della letteratura sapienziale, della sensibilità sapienziale dell'Antico Testamento. E farei quasi una premessa in questo senso, cioè c'è già una sapienza nella Bibbia in quanto tale. La Bibbia è una realtà composita, come forse è composita la vita. Noi la consideriamo un libro e tale è, però già nel lessico, nella terminologia che utilizzavano i nostri padri, nel chiamarla Bibbia, in greco è un plurale, sono i libri. Quindi è una biblioteca, noi potremmo dire. Al suo interno ammette una convivenza di diversi. 47 libri per l'Antico Testamento, basterebbe dire questo. 25 per il Nuovo Testamento. Non solo, ma all'interno dell'Antico Testamento ci sono correnti di pensiero diverse. Vi faccio un esempio, la corrente profetica. I profeti che noi conosciamo, Isaia, Geremia, Ezechiele, sono un filone di pensiero, sono una linea spirituale, potremmo dire, della Bibbia. Diversa da quella storica, il libro della Genesi, dove si racconta della storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che è stato citato. Il libro dell'Esodo, dove si racconta la storia di Mosè. Quindi già un'anima profetica, è un'anima storica. È una terza anima che potremmo dire essere quella sapienziale. All'interno dell'anima sapienziale, che adesso proveremo un pochettino, quantomeno a scontornare nel suo profilo, perché poi descriverne i dettagli, i lineamenti, nello specifico è molto difficile. Perché al proprio interno questa anima contiene libri estremamente diversi tra loro. Il libro dei proverbi, ma nella letteratura sapienziale si annoverà Giobbe, che credo non ci sia bisogno di approfondire ulteriormente. Coelet, il cantico dei cantici. Tra parentesi, giusto per addolorare un ponnello, che è un uomo molto consolato, per cui ogni tanto bisogna desolarlo. Questa mattina alla radio ho sentito che il titolo dell'encirca del Papa, Laudato Si, è una citazione del cantico dei cantici. E lì ti ho pensato, perché ho detto, se nello lo senti, del cantico delle creature, naturalmente, di San Francesco. Il cantico dei cantici è materia mia, il cantico delle creature è materia più sua. Il cantico dei cantici nella letteratura sapienziale, ma anche i salmi nella loro varietà, il libro di Siracide, Sapienza, cioè nella grande corrente che noi chiamiamo sapienziale biblica annoveriamo uno scettico, se vogliamo chiamarlo così, Coelet, tutto è vanità, vi ricordate inizia così il libro, annoveriamo due entusiasti della vita, due giovani che stanno conoscendo l'amore, il cantico dei cantici, ma annoveriamo anche un uomo che grida contro Dio per il dolore innocente, Giobbe. Questo per dire come, ecco, cogliere esattamente quale sia il proprium della letteratura sapienziale è quasi impossibile. Ma, a me non interessa tanto questo, quanto farvi rilevare che la tradizione biblica ha la maturità di contenere i diversi, cioè non vuole risolvere eliminando la diversità, ma contiene, riesce ad essere inclusiva e non esclusiva. In un certo senso, se noi avessimo, se fosse di peso da noi, dovuto tramandare ai posteri una linea, avremmo scelto e nello scegliere avremmo eliminato. Invece la sensibilità biblica e la sensibilità sapienziale in modo particolare si qualifica per questa sua capacità di contenere i diversi, anche quando apparentemente, se voi volete, adolescenzialmente, non sono componibili. Bisogna diventare grandi per comporre i diversi, bisogna diventare maturi. Questo è il primo elemento che mi piace sottolineare. La Bibbia come testo inclusivo, come testo che riesce a mettere insieme i diversi, come testo delle relazioni, e la letteratura sapienziale al proprio interno in modo particolare. Poi, se vogliamo scendere un po' più in profondità e ci domandiamo che cosa sia sapienza, vi devo confessare che forse noi un po' siamo fuorviati dalla nostra cultura, dalla nostra cultura in modo particolare greca. Indubbiamente quando parliamo di sapienza attingiamo al lessico latino, sapio, della pietanza sapida, che si contrappone alla pietanza insipida, ha la stessa radice. Sapienza dice la volontà di andare al di là della superficie delle cose, di cogliere il retrogusto delle pietanze. Adesso non so quanti di voi sono fumatori, ma per riconoscere un buon sigaro bisogna attendere l'indomani mattina. Adesso qualcuno di voi sorride, gli altri stanno zitti perché vuol dire non fumate. Comunque, un buon sigaro si riconosce così dal retrogusto, però c'è una sapienza nel fumo del sigaro, perché forse le cose belle della vita si gustano o si colgono nella loro portata l'indomani mattina. Bisogna far trascorrere un certo tempo per gustarle nella loro profondità. Alcuni vini sul momento sembrano uguali, l'indomani mattina ci si accorge che uguali non sono. Ecco, probabilmente la sapienza è l'invito ad un senso del tempo lungo, per questo ci vuole forse un po' di silenzio, come diceva Nello, ad attendere che le cose maturino. Come? Forse non lo sappiamo, però c'è questa volontà di attesa, questa necessità di attesa. D'altra parte, per noi sapienza è un po' legato alla filosofia greca, per noi sapienza è sofia, la filosofia è l'amore per la sapienza. Però, differentemente dalla Bibbia, la sapienza greca è molto segnata dal pensiero di Socrate, o quantomeno del Socrate che abbiamo conosciuto attraverso Platone, vi ricordate dei dialoghi platonici. Lì abbiamo imparato, e ci è servito molto, il gusto, il senso della verità, di quella verità raggiunta nel dialogo, di quella verità raggiunta nel confronto e non nel ragionamento solipsistico. e Socrate ci ha convinto che apprendere, tirar fuori meglio, e quindi riconoscere la verità, ci avrebbe convinto. Inevitabilmente gli interlocutori di Socrate sono costretti a cedere le armi di fronte al percorso che fanno insieme con lui di riconoscimento della verità. Vi devo confessare che questo ottimismo socratico nella Bibbia un pochettino viene quantomeno ridimensionato. La Bibbia è molto più realistica. Perché? Ma perché la Bibbia, a parte i primi due capitoli, inizia con Genesi 3, inizia con il peccato. Chiamiamolo peccato. Inizia con la presa di coscienza che l'uomo, dotato di libertà, può utilizzare questa libertà forse misteriosamente e anche male. Dunque non basta riconoscere la verità, non basta essere intellettualmente convinti di ciò che è bene, perché bisogna attivare altre facoltà, come la volontà ad esempio. E lì la volontà va esercitata. E San Paolo, voi lo sapete, poi dirà ad un certo punto io vedo il bene, ma faccio il male. E come funziona questo meccanismo? Forse un po' ironicamente, in polemica con il mondo greco, lo vedo il bene, riconosco la verità, ma faccio il male e mi permetto qualche bugia. Poi, non so quanti di voi confessano, ma le bugie che noi diciamo sono sempre bugie bianche. Ci sono poi le bugie domestiche, che si contrappongono alle bugie che si dicono fuori caso. Cioè, aggiungiamo sempre qualche cosa, non è mai piena la nostra responsabilità. Però già il fatto di dire bugie vuol dire che sappiamo qual è la verità e fatichiamo ad aderirvi. Allora, la letteratura sapienziale e biblica su queste tematiche antropologiche, che adesso sto cercando di esporre in modo molto leggero, in realtà entra con grande realismo. L'uomo si scontra di fronte al mistero della vita. Perché la vita non è così lineare come si pensa. La vita presenta delle zone d'ombra, delle zone grigie, e non si può pretendere che tutto sia bianco, tutto sia nero e tutto sia così visibile. Cosa introduce la sensibilità biblica sapienziale a questo proposito? Beh, introduce, direi, due coordinate. La prima è che la sapienza ha a che vedere con Dio. Non vi sembri un fatto ovvio, ma in un certo senso è un fatto straordinario e che per noi è un po' faticoso da integrare. E in questo senso, mentre nella Bibbia Dio passeggia nel giardino di Eden, è stato citato da Nello, no? Quando Dio chiede ad Adamo dove sei, in realtà prima si era fatta una passeggiata per l'Eden. Cioè nella sensibilità biblica Dio c'entra con la storia. Dio fa parte della storia. Il trascendente si rende secondo le sue modalità, ma presente nella storia. Per noi non è più così, guardate. In questo senso la visione del mondo della Bibbia c'è estranea. Almeno per noi in Europa, lo sappiamo, dal 1500, da Grozio in poi, si tenta di vivere come se Dio non ci fosse. Ed era legittima questa richiesta, perché il 1500 è stata un'epoca in cui in nome di Dio si è combattuto. C'erano guerre tra le religioni, anzi erano guerre di religione. E dunque per difendersi da questo rischio si è pensato di poter trovare dei motivi di convivenza come se Dio non ci fosse. Et si Deus non dare etur. Questa sensibilità di immaginare una vita senza Dio è estranea alla sensibilità sapienziale biblica, perché Dio è nel mondo. Dio si rende presente variamente. Dunque il primo contributo che la letteratura sapienziale fornisce è questa dimensione trascendente che c'entra nella storia, che non le è estranea. L'altra coordinata, potremmo dire, l'altra dimensione è che, pur essendo presente Dio nella storia, bisogna attivare la facoltà del discernimento per comprendere esattamente in che modo e cosa significhi questa presenza di Dio nella storia. Cioè, la letteratura sapienziale, e qui ci sono le radici anche dell'Europa, non solo invita a prendere consapevolezza della passeggiata di Dio nel giardino degli uomini, ma invita anche gli uomini a capire dove è Dio ad ascoltare le sue domande, a provare, ad approntare una risposta. E quindi c'è una dimensione di discernimento. Laddove c'è discernimento c'è libertà, c'è l'intelligenza dell'uomo, ci sono tutte le facoltà antropologiche impegnate. E se andate a rileggere i testi della letteratura sapienziale che vi ho citato, come il libro dei proverbi, il libro dei proverbi è una raccolta di proverbi, però provate a digerire il libro dei proverbi e vedrete che al proprio interno ci sono delle contraddizioni. Un ragazzo viene da me, mi viene a parlare, mi viene a proporre una ipotesi di futuro, a proposito di ciò che le tradizioni sapienziali possono dire del futuro, e io gli dico, beh, guarda, sta attento, non fare il passo più lungo della gamba. E' un proverbio che probabilmente rimonta alla notte dei tempi per invitare ad una maggiore prudenza, probabilmente a non esagerare nel rischio che si sta prendendo, nel passo che vorrebbe fare, non fare il passo più lungo della gamba. Poi mi viene un altro a propormi un'altra ipotesi di futuro e io gli dico, beh, guarda, chi non risica non rosica. Allora, sono due proverbi e voi ne troverei, non di questi, nel libro dei proverbi non trovate questi due, ma chi trova un amico trova un tesoro, è uno dei proverbi della letteratura sapienziale, per intenderci, e tanti altri che noi utilizziamo nel nostro gergo hanno la loro radice nella Bibbia. A me interessa dire questo, che la letteratura sapienziale senza un maestro è vuota. Non esiste una regola, un proverbio applicabile sempre senza che ci sia una relazione umanizzante di qualcuno che te ne parla, che te la traduce, che te la suggerisca. La spiritualità sapienziale o la corrente sapienziale in genere è una corrente che ha dietro una trasmissione di sapere, una trasmissione di gusto della vita. I libri sapienziali senza una storia di uomini che te ne parlano possono risultare addirittura al loro interno contraddittori. Pensate alle regole del discernimento di Sant'Ignazio di Loyola, giusto per compensare tra la spiritualità francescana e la spiritualità gesuitica. Le regole, le famose regole del discernimento di Sant'Ignazio senza un padre spirituale sono inutili. È il padre spirituale che sa accompagnarti ad applicare le regole. Ora, questo ci viene dalla sensibilità biblica che aveva, non lo esplicita mai direttamente perché noi non abbiamo cognizione di quali fossero i luoghi di trasmissione del sapere. Possiamo presumere che nell'epoca classica di Salomone fosse la corte, la corte salomonica dove probabilmente sono nati un po' i primi testi che quando Israele va in esilio sono le sinagoge perché non c'è più il tempio, non c'è più la corte e dunque sono soltanto spazi un pochettino più ridotti. Ma sicuramente sappiamo che il sapere veniva trasmesso a casa. La letteratura sapienziale come il libro dei proverbi parla sempre della mamma e del papà. Probabilmente la mamma nei primi anni e poi l'adolescente andava con il papà soprattutto gli uomini andavano a lavorare con il papà. La trasmissione del sapere senza relazione non esiste nella Bibbia. In questo senso potremmo dire che la letteratura sapienziale è una letteratura pedagogica relazionale dove la prima scuola è il rapporto con i genitori e poi tanti altri ambiti in cui le relazioni vanno strutturandosi. Se volessimo sintetizzare in due battute che cos'è la sapienza biblica direi così che la sapienza biblica è un percorso di omeostasi dinamica della vita. Quella capacità che ha l'uomo e l'uomo soltanto ai robot è molto difficile spiegarlo di restare in equilibrio portandosi spostandosi in avanti spostando il baricentro in avanti questa capacità di restare in asse ma sbilanciandosi sempre in avanti un po' a destra un po' a sinistra e dunque un percorso vitale è anche la capacità di insegnarlo ad altri quindi di non tenerlo per sé il sapiente per eccellenza è Salomone nella Bibbia nell'Antico Testamento Salomone che sa invocare la sapienza dall'alto ma che poi è il primo a tradurla nella giustizia che deve amministrare nei confronti del suo popolo ecco la sapienza biblica è una capacità di assumersi i rischi della vita e di imparare agli altri a fare lo stesso grazie grazie Padre Nisi anche qui tanti stimoli per il dibattito e il confronto quindi anche un filo conduttore con quello che ci richiamava a cui ci richiamava Padre Nello quindi questa tradizione biblica che riesce ad essere inclusiva e non esclusiva ma anche la dimensione che peraltro negli anni precedenti come di oggi abbiamo vissuto quello del discernimento quindi la letteratura sapienziale che ci aiuta e ci invita anche al discernimento ma anche il tempo dell'attesa dell'approfondimento dell'attendere che le cose maturino che che le cose le cose che le cose Grazie a tutti